Sì, abbiamo fatto una buona partita, anche se sinceramente sono abbastanza incavolato per non aver portato a casa i tre punti. Ci volevano, ci servivano, ce li meritavamo. Dobbiamo essere più cattivi in certe fasi della partita. Non abbiamo subito neanche un tiro in porta e siamo a casa con un 1-1. Purtroppo è andata così. Dispiace perché la prestazione dei ragazzi era stata molto buona. Eravamo riusciti a soffocare i loro trami di gioco, a prenderli un pochino più alti. Infatti era riuscito bene quello che avevamo preparato e purtroppo abbiamo preso quel gol lì che mi dispiace abbastanza. Sì, ma è stato un gol un po' per colpa nostra. Non siamo riusciti a rinviare una palla innocua che stava uscendo. Abbiamo sbagliato il primo rinvio, abbiamo sbagliato il secondo rinvio e le squadre ti puniscono purtroppo. Ci sono viste però delle cose positive, vuol dire che il lavoro paga. Sì, no, sicuramente la strada è questa. È l'unica strada per migliorare questa, lavorare, lavorare, lavorare. Abbiamo avuto qualche deficit, purtroppo Bertoni non è riuscito a essere dalla partita che ha avuto un problema di afflessore. Si è fatto male Fietta e anche in questo momento per noi sono i due ragazzi che giocano in quella posizione lì e quindi ci hanno tolto parecchio. E quindi va bene, però va bene perché comunque abbiamo fatto le cose, abbiamo fatto in allenamento e sono uscite anche bene. E quindi per quello bene, l'unica roba è il risultato perché ci manca troppo la vittoria. Sì, sul metro arbitrale non mi è piaciuto. Ho anche parlato con l'arbitro a fine partita perché comunque non sono stato d'accordo con molte sue decisioni. Non è sicuramente colpa sua il risultato, a lungi da me dirlo. Ha dato un'espulsione a Stanzani molto frettolosa, anche perché i ragazzi stavano protestando come hanno protestato la panchina del Legnago e tutta la partita. E quindi non è successo niente di che. Sinceramente mi aspettavo al massimo un cartellino giallo, anche perché non ci aveva mai richiamato. E quindi sinceramente non mi è proprio piaciuta la linea che ha preso l'arbitro. Ho fatto quattro munizioni in cinque minuti all'inizio della partita, ma sia per noi che per loro, per tutti e due. Comunque va bene così, dobbiamo accettare la decisione dell'arbitro, anche se a volte è qualche volta un pochino più difficile farlo. Però la cosa fondamentale è che i ragazzi non devono pensare all'arbitro, non pensare a giocare. Speriamo che non capitano più queste cose. Sicuramente c'è, perlomeno penso, più rammarico per non aver sfruttato l'occasione di portare a casa questi tre punti, dopo essere passati in vantaggio. Ci siamo fatti subito riprendere in una situazione un po' fortuita, però comunque sono arrivati prima loro. Dobbiamo cercare anche in queste situazioni di cercare di mettere una pezza a qualsiasi cosa succede, perché eravamo riusciti a passare in vantaggio. E' veramente importante riuscire a portare a casa la vittoria. Dall'altro lato penso che la prestazione sia stata una buona prestazione, abbiamo portato intensità, aggressione, abbiamo anche trovato buone trame con il pallone, creato occasioni, però se la vittoria non è arrivata vuol dire che vi c'è ancora da lavorare, tanto sicuramente. E niente, riguarderemo la partita per preparare meglio la prossima. Ma sicuramente ci sono state diverse trame di gioco, abbiamo col fatto che cercavamo sempre di andare a prendere i alti, come è successo nell'occasione del gol, poi si recuperi palla in quelle zone là, è più facile creare occasioni da gol. Come detto prima, è un percorso che stiamo facendo e dobbiamo solo che continuare cercando di migliorare, migliorare, migliorare.